Mi offri albicocche sulla panchina arcobaleno in piazzetta Paravia. Albicocche della Lidl sono buone. Il colore sta bene con te e con la panchina arcobaleno, ridipinta così forse per il Pride. Ne faccio subito un quadretto e subito penso che non devo. La vita non è fatta di quadretti. Ci sono questioni più profonde e più serie. Però dai, basta avere una consapevolezza e il quadretto è quadretto. Non significa niente, non risolve problemi, non conferisce sensi al rapporto fra noi. Posta questa premessa, credo non sia peccato abbracciare con gli occhi la panchina arcobaleno, le solari albicocche, la modesta bellezza di un momento che va. Grazie. Grazie. Grazie.